BMW Serie 6 Gran Coupé in uscita La BMW Serie 6 Gran Coupé dovrebbe entrare in produzione nel 2012, ma nel frattempo iniziano a girare sul web le prime immagini della vettura dal taglio sportivo che la casa tedesca ha intenzione di inserire tra le versioni Coupé e Cabriolet. Nel design della Serie 6 compare ormai la tipica nervatura laterale che sta contraddistinguendo gli ultimi modelli BMW, mentre caratteristiche innovative sono il padiglione rialzato e un terzo volume che dà all'abitacolo un po' di volumetria. La sua linea è senza dubbio accattivante e sembra proprio un'auto studiata appositamente per chi ama la guida in senso generale. La parte del telaio dovrebbe essere condivisa con la Serie 5 e la Serie 7, ma come è ovvio che sia, i prezzi saranno diversi. Due i propulsori che dovrebbero essere abbinati a questa Serie 6 Gran Coupé. Il primo è un 6L da 3,0 litri e potenza da 320 CV, mentre il secondo è un V8 da 4,4 litri con potenza da ben 408 CV. La BMW Serie 6 Gran Coupé nascerà per entrare in competizione sul mercato con l'Audi A7 e l'ultima Mercedes CLS che dovrebbero essere in commercio qualche mese prima. Quindi sarà una bella sfida tra auto di lusso, ma sportive, con possibilità che si inserisca nel confronto anche qualche proposta della gamma Porsche Panamera. Inoltre la Serie 6 Gran Coupé pare fungerà da base alla berlina a quattro porte che dovrebbe entrare in produzione a sua volta nel 2012. Questa berlina dovrebbe avere la base meccanica della Serie 6 F12 e i motori dovrebbero essere i stessi della Gran Coupé. In più aggiungerà la versione di diesel e hybrid con i prezzi leggermente superiori alla Gran Coupé. In più aggiungerà la versione di diesel e hybrid con i prezzi leggermente superiori alla Gran Coupé.